Allora, questa mattina abbiamo festeggiato con un lavoro, grazie a Claudio, massacrante. Dico soltanto che per la prima volta sto anche mettendo un filtro bellezza perché niente, ti mostro 70 anni e adesso non vedo l'ora di tornare a casa, che ne aspettano le mie binghe. Ma ci rendiamo conto di quante sorprese l'ampazzo. Mio amore, grazie.